Musica Bene, buongiorno dal Parco della Biodiversità di Catanzaro. Nell'ambito di Settembre al Parco c'è un'iniziativa parallela, collaterale, ma totalmente indipendente, ovvero la festa del volontariato. È giunta la sesta edizione quest'anno e il filo conduttore, il tema di quest'anno sarà il rispetto per l'ambiente. Ne parliamo con il presidente del CSV di Catanzaro, Luigi Cuomo. Presidente, rispetto dell'ambiente, se ne parla tanto, plastic free, tale argomento nell'ambito della festa del volontariato? Sì, noi quest'anno abbiamo fatto il plastic free, poi tra l'altro abbiamo già incominciato con i campi scuole di protezione civile che noi facciamo ogni anno. E quest'anno abbiamo pensato di farlo anche qui al Parco della Biodiversità come festa del volontariato. Dicevamo, iniziativa parallela, ma totalmente indipendente rispetto a Settembre al Parco, nel cui contesto comunque rientra. Sì, sì, è tutto ognuno per sé, diciamo. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione provinciale che ci ha concesso questa bella location qui al Parco della Biodiversità. In combinazione abbiamo tutti e due fatto quest'anno la festa per l'ambiente. 60 le associazioni coinvolte, è un buon numero, non sono certamente poche. Sì, quest'anno sono 60. Tra l'altro in questi giorni ci stanno altre manifestazioni in giro e purtroppo le associazioni sono impegnate in altri... Comunque quest'anno abbiamo anche con noi i campi, abbiamo le associazioni di protezione civile che l'anno scorso non ci stavano perché erano impegnate con la Regione Calabria. Ricordiamo un'iniziativa provinciale quindi con le associazioni di Catanzaro ma anche del territorio lamettino e Suveratese. Sì, quest'anno l'abbiamo fatto tutta provinciale, è proprio allargata al massimo perché purtroppo ci dobbiamo allargare perché noi siamo provinciali. E allora Think Green, come recita peraltro un vostro slogan all'interno di questo bellissimo luogo, il Parco della Biodiversità, come si fa a pensare più green, Presidente Cuomo? Bisogna lavorare su questo, bisogna sempre tutti i giorni lavorare ancora di più. Infatti stiamo già pensando di organizzare già per il prossimo anno. Appuntamento allora domenica 8 settembre, Parco della Biodiversità dalle ore? Dalle 10 fino a sera tardi. Fino a quando vi stancherete? No, vabbè, noi non ci cambiamo mai perché anzi devo ringraziare lo staff del CSV che è proprio meraviglioso che hanno lavorato perché siamo partiti a lavorare dal mese di febbraio su questa veste, non è che ci siamo fermati. Addirittura l'ultima riunione è stata fatta il 10 di agosto. Siamo ora con il direttore del CSV di Catanzaro Stefano Morena, direttore, chiaramente la sesta edizione, c'è grande attesa per tale iniziativa, un tema assolutamente attuale, decisamente attuale, ovvero il rispetto per l'ambiente. 60 le associazioni coinvolte, quali saranno le novità? Sì, le novità, diciamo che la festa del volontariato va in continuità con le esperienze degli anni precedenti, è un momento di incontro e di visibilità per le associazioni. Quest'anno a livello come proposta anche innovativa abbiamo introdotto quella che è la linea che abbiamo utilizzato come centro servizi anche nelle altre attività, penso ai campi di protezione civile del volontariato che sono stati campi basati sul consumo di plastica zero e sull'educazione al non consumo di plastica, esperienze che abbiamo voluto riportare anche nella festa del volontariato per dare un messaggio forte di attenzione all'ambiente e al nostro territorio. Infatti tutte le associazioni coinvolte nell'associazione che come diceva prima sono circa 60 si sono impegnate a strutturare al di là di quella che è la loro mission istituzionale un messaggio che va in questa direzione di parlare di ambiente, di utilizzo del consumo del terreno zero e della riduzione o del non utilizzo della plastica oppure se c'è utilizzo di plastica nello smaltimento corretto. Tema questo che è il filo conduttore della giornata e verrà ripreso a fine giornata dai sognatori nel loro spettacolo con lo spettacolo appunto Butta la La La. Senta direttore si parla anche di accorpamento dal 1 gennaio 2020 sostanzialmente il CSV di Catanzaro dovrebbe incorporare anche Crotone e Vibo Valencia è una fase quindi di rinnovamento? Sì è una fase di profondo cambiamento questa è una decisione che naturalmente non abbiamo assunto noi e che per certi versi abbiamo subito perché naturalmente come lei sa è in corso in fase di attuazione la riforma del terzo settore e la riforma del terzo settore ha normato in maniera importante non che non lo fosse prima ma lo ha rivisto e ha introdotto delle novità importanti per quanto riguarda i centri di servizio e il volontariato. Quindi questo accade anche in altre regioni italiane chiaramente? Questo accade in altre regioni italiane molti sono i territori che stanno facendo un percorso di accorpamento per rispondere ai requisiti previsti dalla normativa per cui per essere centro di servizi bisogna avere un bacino di utenze del meno un milione di abitanti essere città metropolitana oppure in presenza di situazioni molto particolari era possibile andare in deroga a questi due aspetti. In Calabria in attuazione della norma avremmo dovuto lavorare su due centri di servizi però da un percorso che abbiamo fatto insieme agli altri territori Reggio e Cosenza siamo arrivati alla conclusione che era importante magari fare tre bacini di utenza conguri non sbilanciando eccessivamente i territori. Quindi Reggio Calabria e Cosenza sono rimasti centri di servizio Catanzaro, Crotone e Vibo faranno questo percorso di accorpamento che naturalmente diventa un percorso molto stimolante sia in termini di confronto ma anche in termini di innovazione perché naturalmente abbiamo l'opportunità anche in una situazione di risorse che naturalmente non ci aiuta tanto però abbiamo l'opportunità di sperimentare percorsi che possono essere calati sull'intero territorio dell'ex provincia si torna alla vecchia grande provincia con un'intenzione importante essere anche da stimolo per gli altri territori in modo che si possano sposare questi percorsi di innovazione io penso che fare centri di servizi è un'esperienza importante è guai a contestualizzarci e a rimanere cristallizzati in quelle che sono le esperienze che abbiamo maturato il sistema dei centri di servizi in Calabria ha un'esperienza adesso di 15 anni molti sono naturalmente i risultati che abbiamo raggiunto e innumerevoli sono ancora le sfide appuntamento quindi a domenica 8 settembre Barco della Biodiversità Catanzaro Giulia Menniti, referente area promozione CSV Catanzaro buongiorno anche a lei parliamo nel dettaglio della manifestazione in programma domenica 8 settembre 70 attese intanto sono ben 60 le associazioni coinvolte da tutta la provincia Catanzaro ma anche l'area Lamettina e Soveratese e si parla di rispetto per l'ambiente plastic free sono argomenti assolutamente decisamente attuali anche nella nostra regione come si svolgerà il tutto? ci saranno anche momenti di confronto laboratori e confronto certo, buongiorno a tutti siamo di nuovo qui a settembre sesta edizione della festa provinciale del volontariato le caratteristiche della festa di quest'anno riguardano sia la territorialità perché noi abbiamo coinvolto nell'unica festa che faremo qui al parco il territorio lamantino e Soveratese quindi tra le 60 associazioni ci sono anche associazioni di quel territorio e la scelta del tema l'ambiente in questo ci siamo ritrovati in perfetta sintonia con il tema di settembre al parco abbiamo chiesto alle associazioni di declinare questo tema è ovvio che tutte potranno sensibilizzare e promuovere le attività che abitualmente svolgono però devo dire che c'è stato un grande fermento un grande entusiasmo a declinare appunto il tema ambientale noi partiremo c'è un evento prefesta che voglio segnalare che si realizzerà qui al Musmi sabato 7 dalle 18 alle 20 ed è curato dall'associazione Intercultura Mondi a confronto con Intercultura è un'associazione che fa scambi internazionali tra giovani e nel pomeriggio di sabato arriveranno dei giovani dalla Thailandia dall'Indonesia e dagli Stati Uniti che verranno ospitati qui nella nostra città da una famiglia e da due famiglie di Lamezia Terme quindi ci sarà questo momento di approfondimento importante la festa inizierà domenica alle ore 10 quindi con l'avvio degli stand di tutte le associazioni diversi e interessantissimi sono i laboratori di riuso e di riciclo ognuno ci ha messo del suo ma io non vi voglio svelare nulla perché voglio che partecipiate affinché possiate vivere questa esperienza gli altri appuntamenti importanti che segnalo sempre nella giornata di domenica avremo, ospiteremo anche Pompieropoli che penso sia un'iniziativa dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco molto conosciuta che darà l'opportunità ai bambini di fare questo percorso per comprendere l'importanza della sicurezza e della prevenzione quando ci sono le calamità naturali e ancora ci sarà la presentazione della fiabba la fiabba del foglio di carta a cura dell'Associazione Amici con il Cuore che è un'associazione che si occupa da anni di riuso e riciclo della carta e quindi ci sarà questa fiabba che verrà poi distribuita ai bambini e ancora a cura dell'Associazione Il Mantello una mostra fotografica sui più bei borghi del nostro territorio con tanto di premiazione della fotografia che avrà riscosso maggiore successo tra i partecipanti alla nostra festa e per finire sul palco del parco nella serata avremo una breve esibizione dell'Associazione Alida Aquila che è un'associazione del territorio di Soverato molto conosciuta loro fanno dei musical e in particolare per questa occasione ci presenteranno un estratto del musical Don Bosco ci sarà poi la commedia dei sogni attori Buttala là che vi invito a venire a vedere perché sarà molto divertente però passerà dei messaggi importanti rispetto alla raccolta differenziata Sì, rispetto alla raccolta differenziata dei rifiuti quindi cosa posso dire? Vi aspettiamo a braccia aperte alla nostra festa e nasce proprio da questa forte collaborazione non potremmo ottenere questi risultati se non ci fosse la collaborazione tra le associazioni che lavorano per mesi per realizzare questo evento quindi grande sinergia grande condivisione e grande gioia e bellezza perché il volontariato è anche questo Grazie Giulia Menniti area promozione del CSV e appuntamento a questo punto possiamo dirlo davvero a domenica 8 settembre Parco della Biodiversità di Catanzaro a partire dalle ore? Dalle ore 10 tutti al parco Grazie mille! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.